Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare la calibrazione del front assist e della camera anteriore con l'Adas. Quindi se avete la necessità lo andiamo a fare su quest'auto i due, ma lo possiamo fare su tutti i tipi di veicoli che montano la camera anteriore e il radar del front assist e del cruise controllativo. Quindi se avete la necessità di fare la calibrazione di questi due componenti di alta sicurezza della attrezzatura che sono la camera che è applicata qui e il radar che è applicato qui, noi qui alla Bianco Auto abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria per sistemare nuovamente, per regolare nuovamente, fare la calibrazione a questi due particolari di altissima sicurezza. Perché? Perché ogni tanto o perché magari vi appoggiate col paraulto e non ve ne accorgete, o perché magari in un parcheggio si appoggiano e non ve ne accorgete, o magari perché per qualsiasi motivo vanno fuori taratura questi strumenti e quindi non funzionano più bene, che sono molto importanti per la vostra sicurezza e quella degli altri. Noi qui alla Bianco Auto possiamo fare la taratura di questa strumentazione con l'Adas. Quindi noi abbiamo qua tutta l'attrezzatura necessaria per poter andare a fare questa calibrazione sulla vostra vettura. Quindi se avete la necessità di fare questa calibrazione, basta che ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o mandate un'email a infochiocciolabiancoauto.it. Ovviamente ogni macchina è diversa dall'altra, noi qui abbiamo tutti gli attacchi, tutti i pannelli per tutte le macchine, quindi da Audi, dalla A alla Z dell'alfabeto di tutte le vetture, possiamo fare questa calibrazione. Ciao a tutti e alla prossima!